Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, due chilometri di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e l'Astra Assigna. In direzione Firenze è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma, restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 per materiali dispersi, rallentamenti in direzione Roma tra la variante di Valico e Calenzano. La viabilità cittadina a Firenze in via Michelacci per reasfaltatura, senso unico da via Pratese a via Treccia. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!